Salve amici miei, oggi andiamo in cucina a preparare un piatto veloce e molto appetitoso, un contorno semplice. In un tegame mettiamo tre cucchiai d'oliva, due spicchi d'aglio tagliati a metà e poi mettiamo il nostro finocchi. Andiamo, dopo aver lavato ovviamente, tagliato, tutto quanto, e poi andiamo a mettere sale, pepe, peperoncino e un cucchiaino di salvia e rosmarino e foglie d'alloro macinati. Io ce li ho già sempre pronti, quindi li uso per fare questi piatti semplici e veloci. Dopodiché andiamo a mettere le olive rossi, che danno un gusto molto particolare al nostro piatto. Dopo dieci minuti è già pronto, senza aggiungere né acqua, niente. Le lasciamo proprio, ogni tanto le diamo una mischiata per non si attacca e poi il nostro piatto è pronto. Adesso andiamo a impiettarlo e poi lo accompagniamo con qualsiasi cosa vogliamo. Un piatto veramente appetitoso, molto buono e veloce tra l'altro. E fin qui ragazzi, ho finito il video. Se vi piace lasciatemi un like, iscriviti nel mio canale. e al prossimo video con un altro suggerimento. Buona giornata ragazzi e buone feste. Ciao, vi lascio con le foto.